Giorni di fermento a Chieti per salvare la squadra di calcio fresca di permanenza in Serie D. Ma dopo la doccia gelata con l'annuncio del disimpegno del patron Giulio Trevisan e del presidente Antonio Mergiotti, comincia a filtrare ottimismo circa la possibilità che un pool di imprenditori cittadini possa rilevare le quote sociali e programmare la prossima stagione. Ieri al Teatro Marucino c'è stato un incontro promosso dall'amministrazione comunale, qui ha partecipato anche il prefetto Armando Forgione e rappresentanti di Forze Economiche di Chieti, Cinzia Turli e Annamico per la Lazzaroni, l'oculista Cristian Poglio, il dottor Lello Di Vito, il direttore di Megalò Pietro Mauro, l'attuale patron Giulio Trevisan e l'avvocato Marco Mattioli, già dirigente sportivo di Chieti e Ferralpisalo. Lavori e incontri proseguireanno per pianificare un progetto sportivo teso a riportare in alto il Chieti e in prima istanza a garantirne la continuità sportiva. Gli imprenditori intervenuti hanno dato una disponibilità, ci sono anche altri imprenditori che hanno manifestato interesse pur non essendo presenti alla riunione di ieri. Siamo felici perché c'è stata una grande risposta da parte del tessuto economico e soprattutto perché da squadra e come una squadra stiamo mettendo in campo delle soluzioni che siamo convinti potranno dare continuità sportiva al Chieti e soprattutto potranno dare una prospettiva alla squadra in un momento importante come quello del centenario. Particolare interesse ha suscitato la presentazione di un progetto illustrato dall'avvocato Mattioli che passa per il rafforzamento di settore giovanile, area media e comunicazione e brand e commercializzazione dei servizi. Ha portato un valore aggiunto specie in una fase organizzativa societaria sia da un punto di vista di quella che potrebbe essere la struttura operativa sia quella che l'importanza del settore giovanile e anche di un rilancio del marketing sportivo della società che è qualcosa di molto importante.